che può scendere in pedana la prossima ginnasta che va ad aprire anche la gara per la ginnastica Fabriano è la volta di Talisa Torretti alla fune, ginnastica Fabriano vincitrice degli ultimi tre scudetti e squadra che attualmente occupa la prima posizione in classifica dopo due prove Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti